Il terzo numero del nostro visione è un altro sguardo sul mondo dedicato al tema della guerra. È un numero meraviglioso, ci sono nuove firme eccezionali, cito per tutti il professore Cardini che ha scritto un pezzo eccezionale, si chiama Guerra Scacchiera Mortale, la copertina la vedete adesso in sovraimpressione, potete ordinarlo sul nostro sito www.visionedv.it alla sezione shop. Abbiamo fatto i salti mortali per abbassare le spese di spedizione che non sono più di 6 euro ma da oggi saranno di 4,90 euro. Abbiamo fatto uno sforzo per cercare di venire incontro alle tante richieste di amici, di uomini che seguono, che vogliono abbeverarsi ad una fonte sana, che ci chiedevano di cercare di limare il più possibile le spese di spedizione. Visto il grandissimo successo e il grande entusiasmo che c'è stato intorno alla nostra iniziativa editoriale, visto che c'è un popolo che ha voglia di buona cultura, voglia di buone analisi, ecco noi abbiamo deciso di gettare il cuore oltre all'ostacolo e di fare di tutto per venirmi incontro, cosa che faremo sempre perché siamo un grande popolo che combatte nel nome di valori che non invecchiano. Invecchiano